Ciao a tutti da Lospolab Un po' di anni fa, forse 2019, ho realizzato, partendo da un frullatore rotto era pure nuovo ma si era rotto, pazienza ci ho fatto una lampada, mettendoci queste qui queste lampade cinesi qua ora, mi è venuta la stessa idea di recuperarla con un busto che buttava Salvatore un busto di quelli che servono per espositori, per le magliette, per l'intimo maschile, eccetera, eccetera di polire di lene bianco e mi è venuta in mente di farci qualcosa del genere andiamo un po' a vedere quello che ho realizzato come si può fare adesso che vuole fuda che vuole fuda ora l'idea è quella di... praticamente... in questo... prima di tutto pulirlo... con una... con una pagliuzza per le pentole poi aprire dei fori qui sotto e sostituire praticamente la parte... questo tappo con una tavoletta o qualcosa in maniera tale da poter introdurre le due lampade che poi proietteranno all'interno del busto tutto qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti 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 bene ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale se ce l'avete fatta ad arrivare fino qui grazie a presto grazie a tutti